Ciao ragazzi, bentornati, finalmente sono subito a comprare la webcam nuova con un annesso microfono, spero che ora mi sentiate meglio. Oggi giocherò a Nexit, ho trovato questo gioco in internet, non ho ancora giocato, non so di cosa si tratti, però vedere l'inizio non è dei migliori. Niente, spero che vi divertiate, fatemi sapere cosa ne pensate. Allora, vediamo un po'. Never go back, oddio. Allora, non c'è niente flashlight, niente, no, ok. No, c'ho paura. Come al solito poi vi metterò il link in descrizione, se volete giocarci anche voi. È un po' inquietante. Ma è da un po' che... che cazzo? Never. Sto dicendo da un po' che non faccio dei video perché aveva parte della webcam, ho avuto un po' da fare con l'università e quindi un po' di esami così oggi finalmente è il primo giorno libero. Vediamo, dentro, sinistra, sinistra. Si può correre? Salve? Salve? C'è nessuno? non so neanche cosa bisogna fare in questo gioco. Penso che sia un labirinto. Cioè, questo è hobby. Però non so quale sia l'obiettivo, se bisogna scappare, se si riesce a scappare, se si muore. Lo scopriremo insieme. Oh, ancora. Sinistra. No, sto attuando a destra. E questo silenzio? Oddio. No, non mi piace il silenzio. Ci voglio anche correre? da che parte? Di qua. Eh, ciao. Andiamo dritti. Perché c'è sto silenzio? No, non mi piace per niente. Cioè, nessuno? Nessuno mi sa che dire qualcosa? Sto cercando informazioni. No, eh? Però, almeno una lucina poteva altro darmela. Non si dice vedere un tubo. Dai! Ma se non mi salti fuori qualche mostro, qualche scheletro. Dai! Ho una bruttissima sensazione. Un'umore che sto girando intorno. Dai, basta. Ci sono più segnali che mi diano le indicazioni. No, eh? non si è... Try again. No! Never go back. Vabbè, non mi consola sapere che non... Non dovrebbero esserci dei mostri. Never go back. Mai tornare indietro. Ma io non sono tornato indietro. Oh! Proverò andare a destra stavolta. Se tantomila tanto. Never! Ok, andiamo di qua, allora. E' abbastanza inquietante. Ok, grazie, indicazione. Salve. Spero di non disturbare. Cioè, adesso l'avevo sempre dritto. Finché non trovo una bifortazione. La grafica non è malaccio. Ficcato ci siano pochissime texture. Però, in cui ti ho abbastanza timore, sto gioco. Sempre di qua. Toscando il cordano di qua, torno indietro. Corri! Dovrebbe essere l'uscita! Corri! Corri! Non si vuole anche correre, mannaggia! Vai, corri! Non so cosa aspettarmi. Corri! No, non mi giro indietro. No! 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 Cosa cazzo? Uè, non fate scherzi. Dai, vai, corri! Non c'ho paura. Vedo la luce. Sto per uscire dal tunnel. Corri! Corri che tutto si fa più chiaro. Sembro strafatto. Ho vinto. Come on, che cazzo. Uè, non facciamo scherzi, eh. E' finito così. Spero vi siate divertiti. Tra poco farò un altro video. Proverò un altro gioco. Pensavo... pensavo meglio, sinceramente, questo gioco. Invece non è che sia stato questo granché. Comunque, buona giornata. Nella prossima. Ciao, ciao. Ciao.